14, Marcus, nei panni del Capitano Barbossa da Pirati dei Caraibi Signore Era sotto coperta Gente, alla via! Dateci dentro, insulsi e scarafaggi! La corona mi ha resa un buon servizio! Ma ora, per chi dai di cielo e mare, spiegatene bene per Tortuga! Capitano Barbossa? Com'è? Com'è? Ti faccio giudicare dal Capitano Jack Sparrow?